Coripet ha come obiettivo quello di coprire l'intero territorio nazionale con questa raccolta definita selettiva particolarmente premiante per la qualità delle bottiglie, rifiuto bottiglia intercettato, siamo partiti alla metà dell'anno scorso con due prime installazioni a Lampedusa per dare un segnale chiaro, dare un segnale forte su quello che vuole essere per noi la copertura di tutto il paese. Da Lampedusa un po' per volta stiamo risalendo, abbiamo già installato un centinaio di macchine che secondo il piano di investimenti già validato dai nostri consorziati vedrà in poco meno di un triennio circa 2000 macchine come questa che inauguriamo oggi qui installate in tutto il territorio nazionale. Grazie mille.